Sette giorni, 237 eventi, oltre 600 ricercatori, 150 escursioni, 80 appuntamenti tra conferenze ed attività all'aperto, 255 giornalisti di tutto il mondo, 80.000 persone. Questi alcuni dei numeri della settimana del pianeta Terra, che si è chiusa domenica 25 ottobre. Una kermess senza precedenti, creata da due ricercatori italiani, Rodolfo Coccioni dell'Università di Urbino e Silvio Sino dell'Università di Pavia. In campo, insieme alle università, musei e centri di ricerca, un grande evento riconosciuto dal MIUR, con l'impegno delle università, dei musei e dei centri di ricerca di tutta Italia, che ha calamitato l'attenzione di migliaia di partecipanti in tutta Italia e che sta facendo il giro del mondo grazie ai numerosi articoli dei giornalisti che hanno preso parte agli eventi organizzati in questa settimana molto intensa. Tra le tappe della kermess spicca Somma Vesuviana, protagonista dell'area vesuviana con una serie di eventi, visite e passeggiate lungo i sentieri del Monte Somma Vesuvio, fino alla splendida Villa Agustea, che ha incantato i visitatori e i numerosi rappresentati della stampa di tutto il mondo. Circa 40 le testate giornalistiche provenienti da almeno 40 paesi dagli Stati Uniti, Sud America, Europa, Russia e Asia Minore, che hanno preso parte alla giornata di sabato 24 ottobre. Appuntamento alle ore 10 presso il sito archeologico in via Starza della Regina, dove ad accoglierli, oltre ai responsabili dell'ufficio stampa dell'evento, Giuseppe Ragosta, i ragazzi del Forum Giovani, volontari della protezione civile della Proloco e vigili urbani, c'era il sindaco di Somma Vesuviana Pasquale Piccolo, che ha annunciato l'idea di realizzare a Somma un museo archeologico che possa ospitare i reperti della Villa Agustea. Il porto di Faruti della cittadinanza intera, certamente questo è un posto per noi che è un fiore a bacchieri. Noi ringraziamo i giapponesi, i quali sono circa da 12 anni dedicati a questo scalo, con impegno, con fermezza e magari impegnando anche i loro soldi, perché noi come contributo stiamo dando ben poco. L'importanza che noi diamo a questo luogo, più che altro, è un'importanza che vorremmo rivautare il nostro territorio, tenendo presente che questo territorio è alle falde del Vesuvio, ragion per cui c'è una vocazione agricola, quindi possiamo incentivare anche questo indirizzo. Certamente, come diceva poco fa Giuseppe Ragostea, la nostra ambizione è quella che tutte queste reperti archeologiche che vengono fuori, vengono conservate in loco, ragione per cui sarà nostra intenzione, non so fra quanto tempo, di poter realizzare addirittura un museo archeologico, in modo da rendere più visibile questa cosa. La vostra presenza qui stamattina, certamente per noi, sarà una vetrina bellissima, perché un giorno in cui questo sito avrà raggiunto la sua autonomia, sicuramente potrà essere inserito in un circuito nazionale, turistico. Con il sindaco Piccolo di Somma Vesuviana, sindaco, oggi è un evento molto importante per questa cittadina vesuviana. Certo, è un evento veramente importantissimo a livello nazionale e internazionale, infatti pare che qui ci sia una delegazione di testate giornalistiche nazionali e internazionali. Io ringrazio Giuseppe Ragostea, il quale si è prodigato tanto perché questa cosa venisse a Somma. Certamente, insomma, per noi questo è un motivo di vanto e un motivo di orgoglio perché attraverso questo sito, questa tappa che noi abbiamo fatto qui e suggeriremo a livello nazionale, quindi il nostro paese viene proiettato in una realtà molto più grande. Il Vesuvio deve essere fonte di ispirazione e di guadagno anche per gli altri paesi vesuviani, quindi bisogna fare un insieme per cercare di sfruttare al meglio questa potenzialità che i paesi vesuviani hanno. Noi abbiamo fondato molto, devo dire la verità, sul parco, l'ente parco nazionale del Vesuvio. Fino adesso purtroppo le nostre aspettative non è che sono state esaudite, ci auguriamo che in un futuro prossimo qualcosa di più si possa muovere, si possa realizzare qualcosa magari di concerto con tutti quanti gli altri. Prima parlava di museo, è possibile a Somma instaurare un museo magari in qualche immobile già presente? Infatti una delle vocazioni che noi riteniamo che sia regittima per il castello è quella di creare all'interno un museo, magari adivendo un paio di distanze a questa attività perché con i reperti che noi ritroviamo qui è possibile insomma farlo. Grazie mille e complimenti. Grazie a te. Il saluto del primo cittadino sommese è stato seguito dagli interventi dei due ricercatori, professor Seno e professor Coccioni, organizzatori dell'evento, che hanno deciso di inserire Somma Vesuviana nel circuito della settimana del pianeta Terra. I dati delle 70-80 mila presenze nazionali penso che lo raggiungeremo. Cosa possiamo ancora dire di questo posto? È chiaro che qui possiamo vedere molto nettamente l'interazione di un pericolo naturale, che è quello del vulcano, con una edificazione. Questo lo possiamo proiettare in qualunque tempo, anche nell'attuale, il Vesuvio è alle nostre spalle, anzi il Monte Somma, che è parte del sistema Vesuvio, è alle nostre spalle e noi siamo nella stessa posizione della villa romana che andremo a vedere. Quindi traete voi, anche molto fisicamente, senza tante teorie, traete voi immediatamente le conclusioni, anche su questo aspetto legato all'attualità. Poi gli altri spunti che potrete vedere sono anche legati al fatto che comunque un vulcano, quindi un pericolo poi è una ricchezza, perché ha una fertilità tale, per cui le aree vulcaniche sono da sempre sede di insediamenti umani e di agricoltura pregiata. Quindi tutto questo sono un po' i temi. Certamente oggi vedremo un sito archeologico, indubbiamente, non c'è ombra di dubbio. Qual è il link tra questo sito e la geologia? La settimana del pianeta Terra che è rivolta soprattutto alle geoscienze italiane e che naturalmente questo sito e la sua storia è collegata direttamente al vulcano, quello che abbiamo praticamente alle nostre spalle, cioè il complesso vulcanico Somma Vesuvio, che esiste, che ha esplicato la sua attività già da 400 mila anni. Quindi è un vulcano, una serie di vulcani, diciamo così, che sono già collaudati. Pensate che negli ultimi 25 mila anni ci sono state almeno 22-23 grandi eruzioni, non tutte come quelle che hanno ovviamente portato all'istituzione del Corano di Pompeo, che conosciamo meglio nel 79 d.C., ma anche altre che sicuramente hanno avuto un'energia spaventosa. Volevo sprecare un attimo un po' di attenzione su questo, è un ricordo se volete, non è una commomorazione, però oggi è il 24 ottobre del 2015 ovviamente. Ecco, nella stessa data, all'incirca fra due ore circa, poco più di due ore, quell'oggetto là, che non era proprio così nel 2000 anni fa, comincia a dare i suoi segni di attività, a riprendere la sua attività, che porterà poi alla distruzione di Corano e Pompei, come dicevo. Oggi, secondo le ultime ipotesi, per chi frequenta o legge i libri di Angela, avrà visto anche il 24 ottobre, è un venerdì, non sappiamo se c'era la luna, insomma, però era quel giorno noi, quindi alle 1, alle 13, praticamente da quell'oggetto là si alza una nube, una nuvola, chiamiamola così, a forma di pino, che poi si alzerà, pensate, fino a quasi 30-40 km di altezza, e nel giro di 20 ore, nel giro di 20 ore, il Colano e Pompei non esistono l'amice, quindi noi stasera faremo festa, certamente, ma prendiamola come l'ultima festa per ricordare questo, però la mia conclusione è questa, questo oggetto, questi vulcani che esistono non solo qua, ma in Italia sono già diffusi anche in altre aree, sicuramente portano distruzione, questo è evidente, però portano anche rigenerazione, perché distruggono la bellezza, distruggono Pompei, Ercolano, come vedrete distruggeranno anche questa villa, la seppelliranno sotto metri e metri di sedimenti, 4 secoli dopo circa, però è un diciamo, c'è questa rigenerazione, quindi la bellezza si rigenera di nuovo, come diceva anche il professor Seno, si rigenera probabilmente anche ricchezza, perché il suolo diventa più fertile, è più semplice produrre, eccetera, eccetera, quindi dobbiamo convivere con questi elementi e guardare anche alla loro bellezza, oltre al messaggio distruttivo che ci portano, quindi guarderemo oggi il Vesuvio sia come un oggetto geologico, diciamo, chiamato così, fa parte del nostro pianeta, ma anche come un oggetto che può rigenerare bellezza. Siamo il professor Seno dell'Università di Pavia, responsabile della settimana della terra, professore Somma rientra nel circuito della settimana della terra, è un evento importante per questa cittadina piccola del Vesuviano? Assolutamente sì, Somma rientra in uno dei 237 eventi che dalla Valle d'Aosta alla Sicilia fanno parte della settimana del pianeta terra. Abbiamo scelto Somma perché, come ha detto lei, è un piccolo centro vicino dei grandi e altri posti dove il turismo è già consolidato, l'area Vesuviana è piena di questi, abbiamo scelto Somma proprio perché è nello spirito del pianeta terra, cioè valorizzare degli oggetti preziosi nel territorio che però non sono alla portata di tutti, bisogna andarseli a cercare, è un po' come aprire una stanza di casa, bella, ma che non è aperta tutti i giorni, quindi noi per questo abbiamo grande piacere di essere qui a Somma e di valorizzare quello che a Somma di bello c'è. Il Vesuvio quanto arricchisce queste zone? Le arricchite tantissimo nel passato, le arricchisce ancora oggi con il turismo, questa è la cosa più ovvia, le potrebbe ancora arricchire anche con l'utilizzo magari in modo sicuro di energie dal sottosuolo, per esempio. Oggi è il 24 ottobre, prima il suo collega ricordava che c'è stata l'eruzione del 79, lei è geologo, possiamo dormire sonni tranquilli? Beh, diciamo che è un po' banale dirlo, ma rispetto al 79 qualche passo in più la scienza l'ha fatto, quindi il sistema Vesuvio e i campi ferogrei sono uno dei più studiati, più conosciuti, più monitorati al mondo tra i sistemi vulcanici, quindi tutto quello che fa parte dei segni che premonitori rispetto ad un evento esplosivo, distruttivo come potrebbe essere quello del 79, del 24 del 79, oggi avremmo la possibilità di cogliere questi elementi di allerta in anticipo. Grazie mille. Grazie a voi. Il professor Rodolfo Coccioni dell'Università di Urbino per la settimana della terra a Somma Vesuviana in questo sito che per Somma Vesuviana rappresenta molto. Un sito estremamente importante che collega la bellezza del nostro patrimonio naturale, perché siamo ovviamente a ridosso del Somma Vesuvio, con la bellezza storico-artistica e quindi archeologica naturalmente, e che racconta la storia di un sito nei dettagli grazie anche alla geologia dei sedimenti che l'hanno ricoperta. Un sito che, diciamo, parte del sito è venuto fuori, probabilmente ce ne sarà ancora tanto da scoprire, Somma Vesuviana come così tanti territori vesuviani. Cioè il territorio Somma Vesuvio si presta molto, siamo un territorio antico, legato appunto alle dinamiche del Vesuvio, quindi c'è ancora molto da lavorare. Il sindaco parlava di investimenti, al di là del museo archeologico, questa è una terra che ha molte risorse. Assolutamente sì, sicuramente al di sotto dei nostri piedi ci saranno tante altre ricchezze da scoprire e naturalmente bisogna anche investire di più su questo senz'altro, su queste ricchezze, su questo patrimonio che abbiamo nel nostro paese. Potrebbe essere, magari anche questa è l'occasione, di rientrare all'interno di ambiti importanti come quello della settimana della terra, potrebbe essere anche un modo per far capire alla gente l'importanza di questo territorio. Tanti giornalisti oggi qui a Somma Vesuviana da tutto il mondo, forse anche a volte le persone non si rendono conto del patrimonio, potrebbe essere questo. Sì, guardi, uno degli obiettivi della settimana della pianeta terra è proprio quello di far riscoprire e valorizzare il patrimonio naturale che abbiamo nel nostro paese, che è diversificato, abbiamo dei vulcani alla isola, ai laghi, ai fiumi, abbiamo di tutto nel nostro paese. E la settimana della pianeta terra, questa iniziativa, cerca proprio di far riscoprire anche le bellezze che abbiamo, magari vicino a casa, a due passi da casa, e non lo sappiamo, perché non le conosciamo perfettamente. Grazie mille, allora buona passata. La visita al sito archeologico è stata guidata dal professor Antonio De Simone, archeologo e docente dell'università su Orsola Benincasa, che segue da anni il sito vesuviano e con una serie di racconti ha affascinato i presenti e ha svelato la scoperta di un muro di 40 centimetri che secondo gli esperti risalirebbe al primo secolo e dunque all'epoca agustea. ...ide interessanti nell'archeologia perché sono state interrate in un solo momento, ma storicamente non hanno l'importanza che hanno città come Napoli e come Nola. Allora un territorio compreso tra due grandi città è un territorio che doveva avere degli elementi di pregio, elementi di pregio che non sono stati mai portati in luce. Pertanto noi ritenemmo, creando già allora, nel 2001, l'anno precedente allo scavo, perché lo scavo è cominciato poi specialmente nel 2002, abbiamo creato questa sorta di convenzione, di accordo quadro, di documento di intenti tra il comune di Somma Vesuviano, che rappresenta l'interesse dei cittadini a valorizzare il territorio, l'università di Tokyo e come università napoletana, il suo rosso l'ha bene in casa, al quale io appartengo. Abbiamo cominciato i lavori nel 2002 pensando di trovarci di fronte alla villa dove fosse morto l'imperatore Augusto, ci siamo trovati di fronte ad una realtà diversa, cioè una villa molto più grande di quella che noi immaginavamo, una villa che almeno da quello che ora vediamo non ha immediate connessioni con Augusto, perché è una villa che viene costruita dopo l'eruzione del 79, quando cioè Augusto era morto da più di un cinquantennio, ma che da un punto di vista storico rappresenta un elemento nuovo di straordinario ampliamento delle conoscenze. Oggi mi sembra un'occasione fenomenale, nel senso che questi monumenti che noi cerchiamo di scavare con grande cura, con grande affetto, poi hanno bisogno di interesse e di affetto da parte di un pubblico di visitatori e la presenza delle persone di stamattina dimostra la potenzialità di questo monumento. Sì, è andato a Tokyo a vedere i manifesti con Somma Vesuviana e lasciava una particolare emozione. Oggi questa è amplificata perché ci sono giornalisti da tutto il mondo. Sì, certo, ce lo voglio dire dal momento che voi venite qui in visita, voi vedete il monumento per un giorno. In genere, come tutti gli scavi archeologici, questo ha una struttura alle spalle che opera durante tutto l'anno e delle attività di studio che si configurano nel fatto che annualmente noi celebriamo presso la Università di Tokyo questa giornata di studi internazionali. Allora, dicevo, per me che mi sento vesuviano, poi è un fatto di particolare piacere vedere che presso il Palazzo Imperiale di Tokyo una volta all'anno ci sono i manifesti con il profilo di una montagna che a noi è così familiare. E allora il fatto che questa realtà possa essere ulteriormente più amplificata dalla presenza della stampa internazionale è un fatto che riempie di gioia, certo. Parlando invece della villa, quest'anno dopo ulteriori lavori a che punto siamo e dove possiamo arrivare? Noi possiamo andare avanti lungo i fronti non ancora scavati, mettendo in luce per esempio la cella vinaria che è alle mie spalle, ampliando lo scavo di queste ali laterali, scavando un poco più a monte perché noi abbiamo tutta la cantina dove si deponeva il vino per metterlo a maturare ma non abbiamo ancora trovato la stanza dove si vinificava, che potrebbe essere sotto l'attuale gru nel cantiere quindi noi abbiamo diversi indirizzi di scavo, così come abbiamo la necessità di approfondire dei saggi in profondità perché sempre più noi ci convinciamo che questa villa, il cui nucleo osservabile è datato alla prima metà del secondo secolo dopo Cristo molto probabilmente dovrebbe avere una fase più antica. Quest'anno pare che qualche traccia noi l'abbiamo trovata, non ne parlo non perché è un elemento che uno vuole tenere nascosto ma perché sono dei segnali che hanno bisogno di una decrittazione che è affidata più allo specialista che al grosso pubblico cioè se uno dice, ah guarda qui c'è il muro più antico, lei mi può rispondere, ma che cavolo mi stai facendo vedere cioè diventa una realtà per voi poco significativa, ma per noi significa tanto aver rintracciato nell'ambito di questo monumento, al di sotto dei piani pavimentali segni di strutture che comunque presentano un orizzonte cronologico più antico di questo. Tanti giornalisti presenti, incantati dal fascino delle strutture romane emerse dal sito vesuviano testimonianza storica di un territorio ricco di cultura, arte e dal vasto patrimonio storico e ambientale che si sposa perfettamente con le eccellenze enogastronomiche della terra vesuviana e contribuisce al rilancio dell'intero territorio come affermano i giornalisti della stampa internazionale e locali intervenuti ai microfoni del mediano web tv Siamo con Sabina Castelfranco di CBS a Somma Vesuviana per la settimana della terra alla villa che noi chiamiamo Agustea, un sito che rappresenta molto per Somma Vesuviana Penso che pochi sappiano che esista la villa Agustea qui a Somma Vesuviana Penso che è un'incredibile opportunità per questo territorio il fatto di portare qui un gruppo di giornalisti esteri potrà dare visibilità a questa cosa penso che può essere solo una cosa ottima certo ci vorrà tempo prima che riescono a fare tutti gli scavi necessari però ci si augura che questo potrà essere fruibile prima o poi anche l'opportunità per rientrare all'interno di un circuito che non rimanga un sito isolato a sé ma che rientri all'interno di un circuito che mette insieme anche Pompei, Ercolano perché è un circuito alternativo a quello che è perché poi tanta gente magari non conosce questo lato del Vesuvio invece oggi tanti giornalisti qui a Somma Vesuviana per questo motivo Certamente penso che la maggior parte dei turisti vada sempre a Pompei, Ercolano quindi questo è cercare di far conoscere un altro lato del Vesuvio quindi chi viene a visitare il Vesuvio possa anche vedere altre zone che non sono quelle solitamente battute Con Peppe Iannicelli, tanti giornalisti qui a Somma Vesuviana la villa, quella che chiamano Villa Agustea comunque una testimonianza importante dell'età romana il territorio sommese può essere questo un territorio alternativo ai soliti e classici itinerari di Pompei e Ercolano questo territorio è ricchissimo di testimonianze come questo Io credo che più che alternativo si debba parlare di integrativo perché per comprendere la bellezza e la meraviglia di Pompei e Ercolano che sono conosciute e apprezzate in tutto il mondo è necessario anche svolgere questo itinerario che per esempio abbraccia Somma Vesuviana certamente ma penso anche alle splendide ville di Stabbia la villa San Marco in modo particolare Allora io credo che mentre prosegue la ricerca scientifica perché questo sito è ancora tutto da esplorare potrebbe riservarci ancora sorpresi più spettacolari bisogna pensare a forme di integrazione promozionale per cui si inducano i turisti, i visitatori, i viaggiatori a trattenersi di più su questo territorio ecco il vero beneficio potrebbe essere questo per affiancare alla visita di Pompei e Ercolano anche la visita di luoghi come questi Settimana della Terra è appunto l'importanza di entrare all'interno di questo itinerario nazionale che ha attirato tanti giornalisti qui al di là dell'aspetto diciamo certamente archeologico questo è anche un modo per comprendere quelle che sono le potenzialità appunto di vista di questo territorio appunto di vista ambientale ed anche poi culinario perché questa terra offre tantissimo sotto questo punto di vista quindi cercare di creare rete tra i vari comuni che hanno queste potenzialità e integrare poi tutto quello insieme qual è la strada da percorrere per creare tutto questo e portare turismo in queste zone la strada ce l'hanno insegnata già i romani i romani erano i dominatori del mondo i potenti e ricchi romani potevano scegliere qualsiasi posto per costruirsi le loro ville che ricordiamo nell'accezione romana la villa era il luogo del riposo ma del riposo attivo il luogo dei piaceri e anche della politica e degli affari ma soprattutto dei piaceri beh se le hanno costruite alle pendici del Vesuvio queste ville meravigliose una ragione credo dovrà pur esserci noi non dobbiamo inventare nulla direi dobbiamo ritrovare questa radice e saper mettere a sistema tutte le potenzialità del territorio che sono certamente l'enorme patrimonio storico e archeologico che credo in nessun'altra parte del mondo si concentrano in modo così ricco e dovizioso secondo le bellezze dell'ambiente lo spettacolo che si apre ai nostri occhi è assolutamente incantevole e meraviglioso c'è tutto c'è l'alta montagna la fertile pianura c'è il mare ci sono le isole di Capri e del Golfo Partenopeo e poi la tradizione dell'artigianato e dell'enogastronomia quando riusciremo a mettere a sistema questo tipo di aspetti e queste tre dimensioni tra di loro perfettamente intersecate avremo creato lavoro, ricchezza avremo determinato anche quelle condizioni per proteggere il territorio per proteggerlo dalla devastazione idrogeologica che anche in questi giorni scrive pagine luttuose e dolorose in Campania ma anche dall'abbandono di rifiuti di rifiuti tossici perché chiaramente è un territorio vivo un territorio che produce reddito e ricchezza è un territorio che viene salvaguardato dagli stessi protagonisti di questo territorio grazie mille la visita poi è proseguita sul territorio vesuviano e dopo una tappa dedicata alle eccellenze enogastronomiche della terra sommese che ha visto i giornalisti affascinati dal baccalà lo stoccafisso, la catalanesca il pomodorino del piennolo raccontati dal ristoratore Luigi Russo dopo una splendida passeggiata lungo il Vesuvio e il Monte Somma inserate le musiche splendidamente interpretate dal vivo le danze e i testi curati dal maestro Angelo Parisi artista internazionale hanno dato la possibilità di far rivivere il sito di notte con un gioco di luci accompagnato dalla voce narrante che ha descritto perfettamente la villa e la sua storia una giornata fantastica per Somma Vesuviana e il suo territorio che ha chiuso nel migliore dei modi la settimana del pianeta Terra decretando di fatto le potenzialità e la forza del territorio vesuviano in Italia e nel mondo